Ciao a tutti cari signori di MDN, e benvenuti in questo nuovissimo video di Vimileicl, con la richiesta di Christian Mattia 2004, e Samuele Turone. Cominciamo subito con, 1, Christian Mattia 2004. Le Iene presentano, Inside, è un programma televisivo italiano di genere investigativo, spin-off di Le Iene che, come avveniva nelle puntate speciali del formato principale, si dedica a un caso andando a scoprirne tutti i dettagli. Il Radio Bruno Estate, ha mosso i primi passi alla metà degli anni 90 come festival estivo in Emilia Romagna. Dal 2010, rappresenta la punta di diamante degli eventi organizzati e prodotti da Radio Bruno. Si tratta di uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, dove i protagonisti dei successi dell'estate si avvicendano sul grande palco in alcune delle piazze più belle del centro-nord Italia. Pensa in grande. Un programma che racconta il bel paese attraverso la voce e le esperienze di chi ha creduto nei propri sogni, e ha fatto di tutto per realizzarli, nonostante le difficoltà. Gli imprenditori. Tami Doll, è una serie televisiva statunitense prodotta da Warner Brothers, e trasmessa dal 30 settembre 2009 al 22 maggio 2018 sull'emittente ABC. Pressing, è un programma televisivo italiano di approfondimento calcistico, trasmesso sulle reti Mediaset. E concludiamo il video con, 2, Samuele Turone. Bee, e Papi Cat, è una serie animata statunitense creata e scritta da Natasha Allegri. Little Tony, pseudonimo di Antonio Ciacci, è stato un cantante e attore sammarinese, interprete di numerosi successi come Cuore Matto, Ridera, e 24.000 Baci, cantata in coppia con Adriano Celentano e classificatasi seconda al Festival di Sanremo 1961. Pacific Rim, la zona oscura, conosciuta anche in Giappone come Pacific Rim, The Dark Continent, è una serie animata anime per adulti dal genere azione, fantascienza e meca giapponese americana ideata dai Roryuki Hayashi, Yaeon Kim, che espande la storia dei film Pacific Rim, e Pacific Rim, La Rivolta, e ha debuttato su Netflix il 4 marzo 2021. Il Bambino della Domenica, è una miniserie televisiva in, due puntate, andata in onda domenica 18 e lunedì 19 maggio 2008 su Rai 1. La regia è di Maurizio Zaccaro. La sceneggiatura è di Alessandro Pondi, Paolo Logli, Andrea Purgatori e Peppe Fiorello. E con questo nuovissimo video è tutto. Mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace e mettete la campanella per non perdervi i nostri nuovi video. Ci vediamo alla prossima, ciao loho! Grazie a tutti!